Prologic ha emesso sul mercato un'ampia gamma di canne che vanno a completare la linea già esistente C2. Stanno cominciando ad arrivare disponibili al catalogo già da qualche settimana e hanno riscosso un notevole successo le nuove C2 Natura FC che sta per full cork ovvero con il manico interamente realizzato in sughero come potete vedere. È una canna veramente eccellente che si basa su un grezzo simile alla Naturatec che abbiamo già presentato in video precedenti in carbonio alto modulo tipo 24T ovvero un carbonio di alta gamma che garantisce ottime prestazioni e rende il grezzo della canna molto polivalente con un'ottima riserva di potenza nel manico ed un'azione parabolica per avere divertimento con combattimenti con ogni tipo di preda. Andiamo a vedere nello specifico la nuova C2 full cork. Come detto la particolarità è questo disegno vintage del manico interamente composto in sughero con tappo a raffigurare il logo Prologic molto interessante è l'inserto che abbiamo sotto al porta molinello con questa ghiera metallica con questo inserto metallico che fuoriesce molto utile per evitare lo scorrimento della canna ma soprattutto per adattarsi ai nuovi poggiacanne Prologic che prevedono l'inserimento di questo piccolo inserto all'interno del poggiacanne stesso evitando perciò lo scorrimento in avanti e indietro del calcio e pertanto della canna stessa sia in caso di attesa che in caso di partenze molto violente. Andiamo a vedere l'anellatura di cui sono composte le C2 FC anelli in sic, in pietra dura, adatti all'utilizzo di ogni tipo di lenza dal trecciato a tutti i tipi di nylon sono anelli a lunga durata che non soffrono dello stress di lunghi utilizzi, anche di trecciati più usuranti doppio ponte nella parte bassa nel manico della canna anelli a ponte singolo, come potete vedere, nel puntale una placca porta mulinello a vite ergonomica regolabile per contenere anche mulinelli big pit di elevate grandezze necessari a chi pratica long range anche estremo, a cui è necessario avere in bobina notevoli capacità di lenza la colorazione della canna è interamente nera molto elegante, con legature anche se nere realizzate in maniera sì industriale ma veramente molto interessanti l'innesto è un classico spigò, come vedete tornito con una legatura di rinforzo dalla parte del puntale infatti lo spigò è una delle parti più sensibili della canna è una delle parti più sollecitate pertanto è anche una delle prime parti che tende a cedere in caso di rotture per questo avere un rinforzo è importante per una lunga durata e per avere un'azione quanto più lineare possibile della canna stessa un prodotto veramente molto interessante forse anche limitato proporvelo in questa maniera qui ma ce lo proviamo lo stesso insomma la fama Prologic è veramente immensa pertanto quello che vi diciamo siamo certi possa essere da voi compreso in maniera quanto più completa possibile molto elegante come vi dicevamo abbiamo avuto un ottimo successo vuoi anche per la moda che ultimamente sta riproponendo in maniera importante canne con questo stile in sughero che ricordano un po' gli anni passati della pesca quando canne in sughero rappresentavano con il manico in sughero erano più o meno all'ordine del giorno non esisteva neoprene o altri materiali simili una canna che per rapporto qualità prezzo è veramente molto interessante siamo sempre sotto alla fascia di 100 euro per questo abbiamo deciso di proporvela la Full Cork come le altre della linea C2 che andremo a proporvi nei giorni successivi entrano di diritto nel catalogo di SM Store perché riescono a proporsi al pubblico in maniera eccellente con prezzi al pubblico veramente ottimi e un rapporto qualità prezzo veramente strepitoso che dire di più Prologic Natura C2 Full Cork una canna veramente molto interessante che come abbiamo già potuto vedere ha ricevuto l'apprezzamento di moltissimi carpisti italiani europei e ovunque Prologic riesca a distribuire i propri prodotti e ovunque e ovunque e ovunque Grazie a tutti